Good morning Milano! Buongiorno a tutte e buongiorno a tutti! Come va? Come state? Siamo di nuovo qui, siamo ritornati! Ebbene sì, sono le 7 e 10 di oggi, lunedì 9 settembre, siamo in onda su Crystal Radio e su goodmorning.milano.it su Crystal Radio, sugli FM 96.2, sul DAB Plus, sul sito di Crystal Radio, nell'applicazione che potete scaricare sia per iOS e Android, ma soprattutto, siamo in onda, nei vostri cuori. Ci siete mancati tantissimo, tutte quante, tutti quanti. Ebbene sì, un saluto alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori, come dice sempre Tamara Malleo al giovedì. Bene, oggi si ricomincia, si riparte, è il capodanno di Good Morning Milano. Ebbene, questa cosa, dobbiamo capirla subito, viene all'inizio. Voi siete del team gennaio o del team settembre? Cioè, iniziate l'anno a settembre o lo iniziate a gennaio? Perché io, ovviamente, per motivi, diciamo, di calendario stagionale, lo inizio a settembre. Cioè, adesso, 9 settembre, vi dico già, 29 giugno, è l'ultima puntata. Ho guardato quando è che finiamo la stagione di quest'anno, ho dovuto guardarlo per motivi tecnici e ho visto che, appunto, il 29 giugno finirà la stagione, questa stagione che inizia oggi. Ma non dobbiamo guardare alla fine, dobbiamo guardare all'inizio, dobbiamo guardare a questo settembre, che, appunto, ci fa ripartire, e sarà il tema di oggi, la ripartenza, con Filippo Poletti, che sarà qui ospite con noi. Poi arriva, ovviamente, il nostro feticcio, che è Lorenzo Masieri, che verrà qui a raccontarci un po' che cosa ha fatto quest'estate. Soprattutto, raccontatecelo anche voi. Benvenuto a settembre! E questi erano gli Heart Wind & Fire con settembre. Settembre, no? L'inizio, la nuova stagione. Si inizia sempre qualcosa di nuovo ogni settembre che arriva e, come tutti i lunedì, o come tutti gli inizi, noi iniziamo ogni lunedì, quindi lunedì più inizio, più ripartenza, è un'addizione che non può fare che Filippo Poletti come soluzione. Buongiorno, Filippo! Buongiorno, Fabio! Eccoci qua, una stretta di mano per tutti voi. Eccoci qua! Allora, abbronzato, ti vedo, ma già incravattato. È già incravattato, pronto per il buongiorno. Qua si inizia a lavorare, anzi, si rinizia a lavorare. Siamo pronti a condividere, come sempre, tantissime belle informazioni, perché noi di Milano Good Morning vogliamo solo le belle notizie. Eh, belle notizie che, insomma, ricordiamo, no, Filippo, tu su LinkedIn, quante mattine è che dai buone notizie sul lavoro, su LinkedIn? Eh, dal 5 maggio del 2017, oltre 4.000 poste. Non so fare i conti, grazie che l'hai fatto tu per me. Oltre 4.000 mattine in cui hai raccontato, no, le cose belle del mondo del lavoro. Sì, sì, sì. E guarda, io lo sai, sono un cronista, sono stato un cronista, e quindi, quando ho detto, bene, posso fare una cosa su LinkedIn o LinkedIn, e posso farla da editore, insomma, scelgo io il taglio da dare. E credo che, insomma, una buona notizia al giorno tolga, appunto, il cattivo umore di torno. E quindi il buon umore ce lo porti, appunto, anche qui a noi, a Good Money Milano, grazie, insomma, noi abbiamo questa tradizione, ormai, che la prima puntata dell'anno la iniziamo con chi ci dà il buon lavoro. Perché, insomma, nonostante ci si diverta, nonostante sia un bellissimo lavoro, è anche questo del far la radio un lavoro, e quindi iniziamo con questo buon lavoro. Allora, l'estate, dopo magari entriamo meglio nel dettaglio, però, insomma, l'estate è quella roba dove sembra che il lavoro scompaia, no? No, si è lavorato tanto, e guarda, si sono accesi i riflettori su una cosa bellissima, cioè lo sport. Allora, l'abbiamo visto a Parigi, con le Olimpiadi e le Paralimpiadi, e l'abbiamo visto pure a Monza, qui vicino a Milano, no? Con il Gran Premio. E a Parigi sono successe tante cose belle. Beh, quello che mi ha colpito, anzitutto, è la presenza del capo, dello Stato. Non scontata, perché è stato presente sia all'inaugurazione delle Olimpiadi, il 26 luglio, che... Sotto l'acqua. Eh sì, sotto l'acqua, che è quelle delle Paralimpiadi, insomma, alla fine di agosto. Come dire, lo sport è per tutti, e io, Presidente della Repubblica, appunto, sono qua per tutti. E mi hanno colpito tante cose, ma anzitutto la pista viola. Amici, ma la pista viola su cui si è corsa è fatta da un'azienda italiana, l'azienda Mondo, attenzione, qua siamo in Milano, in collaborazione di chi? Del Politecnico di Milano. Insomma, diciamo, anche Milano, anche l'Italia ha contribuito, no? Abbiamo visto nello stadio di Saint-Denis tanti arrivi, tante medaglie. Ebbene, io ogni volta che vedevo quel viola mi ricordavo del lavoro delle aziende italiane, del Politecnico. E poi abbiamo visto, appunto, no? Tante medaglie per le Olimpiadi, ma soprattutto tante, tante più medaglie per le Paralimpiadi. Quindi questa è una bellissima... 71, mi sembra che alla fine, no? Siamo arrivati, record storico per l'Italia alle Paralimpiadi. Contro 40, diciamo, adesso non facciamo i bracci di ferro, però diciamo che le Paralimpiadi, insomma, portano bene agli italiani, o meglio, gli italiani, sono bravi nelle Paralimpiadi. E allora, appunto, continuiamo a parlare di lavoro, continuiamo a parlare anche di Parigi, perché so che tante cose da dire, ma continuiamo a parlare di quello che è stato qui, non prima, lo sai, insomma, siamo una radio. La musica comanda, Tedua! Avanti, avanti! Beatrice Tedua, e devo dire che ho messo questa canzone apposta, Filippo, volevo dirlo anche a te, perché da oggi comincia la sua avventura qui a Good Morning Milano, la nostra nuova producer, che è Beatrice. Quindi un saluto a Beatrice in regia, la nostra redazione, la nostra producer, e quindi ho voluto mettere una canzone per lei. Non ha fatto le Olimpiadi, non ha fatto le Paralimpiadi, ma farà questa maratona di Good Morning Milano tutte le mattine, va bene? Bene, bene. Torniamo a Parigi, perché appunto mi raccontavi che, insomma, oltre a questa storia bellissima della Mondo, appunto, che ha costruito insieme al Politecnico di Milano, dicevi, cioè gli studi del Politecnico di Milano, con la collaborazione, le piste, la famosa pista viola, bellissima comunque, che ci ha fatto sognare tutte le tre settimane di Olimpiadi e nelle due settimane delle Paralimpiadi. Eh, ci ha fatto piangere. Pensiamo, per esempio, per quanto riguarda le Olimpiadi, alle lacrime di gioia di Benedetta Pilato, le Centorana, che ha detto, ho perso per un centesimo, sono arrivata a quarta, ma appunto sono felice. E questo è un grande insegnamento, no? Dobbiamo, in qualche modo, mettercela tutta, lottare nel lavoro, poi, insomma, accettare quello che viene, insomma, i risultati che vengono. Invece, sul fronte delle Paralimpiadi, beh, bellissima, scusa, sulle Olimpiadi, anche straordinaria la vittoria delle Azzurre nel volley, no? Vabbè, sì, 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 con i segreti di Velasco, no? Me li sono appuntati. Avere una strategia chiara serve a noi sul lavoro. Due, fare squadra, se non facciamo squadra sul lavoro, non andiamo da nessuna parte. E tre, guardare, sempre avanti, insegnamenti per tutti. E poi, per quanto riguarda le Paralimpiadi, quella battuta illuminante di Rigi, il romano di 25 anni, appunto... Che te devo dire? Sì, che te devo dire... Tre record del mondo, uno attaccato all'altro. Tre record del mondo e che con grande semplicità, appunto, ha portato così il calore degli italiani a Parigi. Dicendo anche una cosa bellissima. Quando l'intervistatrice, la collega della RAI, gli ha chiesto, insomma, l'emozione che ha provato più grande. Lui ha detto, bene, l'emozione più grande è stata il mio vicino di casa che mi ha portato la bandiera. Come dire, nella vita contano, appunto, le relazioni. Torniamo qui sul lavoro. Al centro del lavoro ci sono, appunto, le persone. Le persone che, appunto, spesso dai giornali si leggono, magari invece che vengono dimenticate, spesso, del mondo del lavoro. Si danno spesso solo brutte notizie. Ma invece tu trovi anche, invece, delle belle notizie dove le persone non vengono dimenticate, ma anzi, no? Ma sì, dobbiamo, insomma, dobbiamo ricordarci che abbiamo tutti bisogno di essere, come dire, di essere accompagnati e di unire le forze assieme alle altre persone. Siamo degli esseri, a me non piace parlare degli animali, siamo degli esseri, appunto, sociali. Quindi dobbiamo unire le forze con altri. Poi, sempre per sport, bellissima la vittoria qui, appunto, a Milano della Formula 1 con l'Eclerc, è bellissima, andate a rileggere, se non l'avete letta, l'intervista a Benedetto Vigna, l'amministratore gato di Ferrari, che, appunto, ha detto due cose bellissime. La prima cosa, so di non sapere, posso imparare da tutti. E poi, aggiunto, una cosa, per ritornare a quello che dicevamo prima, l'azienda è come una cipolla. Al centro ci sono le persone. Lui raccontava a un collega, appunto, a un collega giornalista, diceva, bene, quando io entro in ufficio, in azienda, qualcuno, qualche operaio mi chiede, possiamo prendere un caffè insieme? E lui dice, ben volentieri. Insomma, in sostanza... Ad averne. Ad averne. I leader devono essere in grado di parlare con tutti e interlocuare con tutti. E allora, continuiamo con la musica, ma preparati due novità che sono arrivate quest'estate nel mondo del lavoro. Volentieri. E lo so, lo so. Tra me e l'ufficio programmazione e questa mattina siamo stati un po' prevedibili. Ma è settembre, non potevamo che ascoltare la PFM con impressioni di settembre. Bentornati. Eccoci qui. Allora, in diretta ancora su Crystal Radio, Good Morning Milano, 7.35 minuti, con Filippo Poletti, le due novità per il lavoro che ti hanno colpito quest'estate. Allora, la prima, cari amici di Good Morning Milano, è il tempo per sé di Generali. Allora, Generali ha presentato il suo modello che si chiama Red Working, è un acronimo che sta per Relevant, Empowering e Dynamic. E all'interno ci sono, c'è uno spazio, uno spazio per sé. Cioè, i dipendenti settimanalmente hanno due ore senza riunioni. Perché, lo sappiamo bene, in questo modo digitale siamo costantemente on e quindi Whatsapp, riunioni, insomma, diciamo, è diventato, come dire, un vero e proprio grandissimo impegno lavorare. Si parla addirittura di debito digitale. Insomma, abbiamo un grande debito digitale. E poi, in generale, in generale ci sono tante altre cose. La conferma dello Smart Working a tre giorni alle settimane. Non torniamo indietro, caro Fabio, sullo Smart Working. Ne hanno parlato anche a Cernobbio. Io sai che sono un fautore dello Smart Working, alternato a dei momenti di incontro fisico. E poi, la percentuale, ecco, una cosa interessante in generale, la possibilità di legare il premio di produzione al commuting, al trasporto ecosostenibile. Cioè, vai in ufficio con la bicicletta, che sono mezzi pubblici, bene, a quel punto meriti un premio. O meglio, nel conteggio del premio c'è anche questo. E poi, un'altra novità, me ne chiedevi due, quello del pisolino. Tu lo fai il pomeriggio? No. Mi sentirai in colpa, ti dico la verità. E invece, non ti devi sentirne in colpa. perché 13 minuti di pisolino al giorno fanno bene alla produttività. Chi l'ha detto? L'ha detto questo neurologo, si chiama Oliviero Bruni della Sapienza, in cui appunto ha spiegato che il famoso NEP, il pisolino, aumenta la produttività sul lavoro, penso un po' del 2-3%. E rinforza anche le capacità di attenzione. Insomma, facciamoci questo bel pisolino. Quindi, 13 minuti al giorno devo farmi il pisolino? Sì, 13 minuti al giorno. Beh, poi ti dici come farlo. Ecco, io un anno fa avevo pubblicato su Nindin la notizia di questa cabina giapponese che si chiama Giraffe NEP. Penso un po', una cabina in cui tu puoi fare il pisolino in piedi. In piedi? Come i cavalli? Come i cavalli. Con dei tiranti ti tiene su e ha una cabina alta fino a 2,5 metri larga 1,2 con appunto insonorizzata nel senso che dall'esterno non senti i rumori e poi appunto con un sistema di flusso d'aria che riduce il particolato dell'anidride carbonica. Quindi respiri anche aria pulita. Aria pulita. In Giappone si sta rifondendo o chissà che appunto... Eh sì, loro parlano che quella roba delle capsule hotel quindi ce l'hanno questa mania. In realtà ho visto delle piccole capsule, sì, dei box anche al Merlata Bloom qui a Milano dove tu puoi mi ricordo quanto costa hai 20 minuti di tempo per stare dentro a riposarti sulla poltrona massaggiante quindi vabbè meglio forse il pisolino da 13 minuti con i tiranti però. Coldplay feels like I'm falling in love e insomma l'estate appunto si è passata ci ha portato novità ma anche altre idee per altri spunti sul lavoro altre possibilità altre conquiste anche no? Eh sì, è stata un'estate interessante la notizia d'agosto è stata l'acquisizione da parte di Bendy Spoon la società milanese che si occupa appunto di sviluppo di WeTransfered quanti di voi quanti di noi hanno usato questo sistema per appunto spedire i documenti diciamo lo usiamo tutti lunedì quando tu ci mandi il buon lavoro ad esempio lo usiamo tutti lunedì e insomma è veramente un sistema adesso ogni volta che trasferiremo un file bene sapremo che c'è dietro anche un'azienda italiana un unicorno che ha anche Evernote Streamyard Streamyard una piattaforma per fare le dirette interessanti insomma Milano e con il CEO Luca Ferrari si sta appunto allargando e poi e poi tra le altre parlando di acquisizioni ho rimasto a Mars che si ha compratto Pringles ho rimasto quella nel mondo del food mi attira sempre tanto poi cos'altro e poi l'altra bella notizia questa di luglio è stata la nomina di Anna Gervasoni a retrice della Liuc l'università dico questa perché è stata una messa perché pensate un po' è la sesta donna retrice di un'università in Lombardia abbiamo appunto al Politecnico la professoressa Asciutto alla Bicocca la Cattolica la Statale la Nisubria ora alla Liuc insomma si parla spesso di della disparità della presenza di uomini rispetto alle donne in posizioni apicali bene l'università Lombarda dà il bell'esempio quindi bene bene buon lavoro alla professoressa Gervasoni sei retrici in Lombardia non è poco sì ricordo bene era il novembre del 22 la prima fu la professoressa Donatella Asciutto al Politecnico poi appunto Giovanna Iannantuoni alla Bicocca eccetera eccetera quindi dal 22 dal novembre 22 al luglio del 24 insomma ci sono stati dei progressi dei grandi passi in avanti benvengano e allora siamo ancora tecnicamente in estate però insomma volge al termine soprattutto non lo si capisce guardando fuori dalla finestra che siamo ancora in estate quello non lo si capisce più però la temperatura è ancora mica sì soprattutto qua in studio devo dire la verità dove studiamo ancora ma come possiamo questa è la domanda che era la prima domanda della Fatima la teniamo verso il finale come prepararsi per iniziare appunto questo autunno lavorativo allora devi sapere che io ieri ho fatto un salto a Piazza del Duomo dove c'era questo bellissimo evento il ballo in bianco con Roberto Bolle e mi ha colpito una frase che ha detto a questi quasi duemila ballerini ballerine ha detto non smettete mai di sognare ha detto Roberto Bolle della scala bene non smettiamo mai di sognare lavoriamo lavoriamo ma sempre cercando qualcosa in più e soprattutto non mortificando le nostre aspirazioni i nostri sogni insomma cerchiamo 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 e non smettiamo appunto mai di sognare questo è l'insegnamento di Bolle di ieri al ballo in bianco ballo in bianco sono quelle iniziative comunque che sono veramente qualcosa di spettacolare per Milano poi sai che io in realtà sono contrario a tutte le manifestazioni di Piazza del Duomo credo che Piazza del Duomo non andrebbe data per concerti per balli in piazza niente perché Piazza del Duomo è di tutti i milanesi invece tu vai lì sono tre giorni che non si potrebbe aggirare quindi sono in realtà polemico da quel punto di vista dall'alto dico che bello quando però la città risponde così bene a queste iniziative quello sì molto è molto interessante non smettere di sognare come si fa non smettere di sognare Filippo tu sei uno che l'ha mai smesso non smettere di sognare vuol dire sempre mettercela tutta mettercela tutta ingegneristicamente si dice che la vita è fatta di vincoli tutti noi abbiamo dei vincoli ma all'interno di questi vincoli non dobbiamo mai mortificare quelle che sono le aspirazioni i desideri le passioni vedi ieri guardando questi ragazzi e ascoltando c'era un valse di Chopin il numero 2 opera 69 bellissimo andate ad ascoltarlo bene pensavo a quanto a quanto noi possiamo ribaltare un paradigma si parla sempre del bilanciamento vita lavoro io propongo un altro bilanciamento io propongo il bilanciamento tra diciamo le passioni e il lavoro non mettiamo a tacere le nostre passioni mai 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 e ricordiamoci che dobbiamo farlo anche perché viviamo in un mondo complesso e la complessità ci impone di imparare a unire i pontini come anche girovagando ecco prendiamoci del tempo durante la giornata a fare i flaneura a fare i girovaghi tra una competenza e l'altra tra una materia e l'altra insomma diciamo cerchiamo di andare sempre un po' oltre gli steccati girovaghiamo questa secondo me è una parola da tenere sul tavolino mi hai alzato la schiacciata girovaghiamo voglio sapere dopo la prossima canzone dove hai girovagato quest'estate perché anche lì non è solo vacanza o meglio è vacanza ma ci sono anche delle belle storie che ti porti a casa delle belle bellissime in realtà commovente da Zanzibar da Zanzibar isola fantastica della Tanzania io sapete amo follemente quella terra per anni l'ho frequentata quindi insomma poi ne parleremo subito dopo subito dopo Safari in Gemma buon viaggio a tutti Era Cercon Believe alle 7 e 52 minuti Crystal Radio Good Morning Milano 3317853555 il nostro numero di Whatsapp Filippo Poletti che ci parlava di non smettere mai di girovagare sia con la mente mi viene da dire con le mani nel provare le esperienze ma in realtà anche fisicamente magari facendo dei viaggi come quello che hai fatto quest'estate dove sei andato? Allora sono andato a Zanzibar ecco sono italiano che fanno l'ol inclusive tutto il giorno a bere mangiare e zogovegliare no a conoscere una realtà straordinaria a conoscere pensate un po' questo fratello questo fratello italiano si chiama Marco Pugliese 62 anni torinese ha passato una vita a lavorare nel turismo dopo 30 anni per lavoro era stato mandato pensate a Zanzibar a vedere una struttura si innamora di questo arcipelago perché in realtà sono più isole e lì fonda questa prima scuola e unica in Tanzania per bambini disabili la scuola si chiama la Donino e io gli ho chiesto Marco perché Donino perché era il soprannome di mia moglie pensate un po' una storia tragica anche qui sua moglie si ammala di un tumore muore e gli dice tu devi tornare in Africa e appunto portare avanti quello che noi abbiamo immaginato una struttura su 5 ettari riservata a 85 ragazzi io sono stato nelle classi guardate gli abbracci di questi bambini alcuni sono sordi alcuni muti alcuni sono down alcuni hanno dei problemi dei problemi psicologici eccetera insomma è un affetto travolgente e Valtour sostiene questa questa c'è una bella sinergia per tenere poi in piedi tutto questo questa questa bella scuola è anche una fondazione che consede in Italia e per ogni pensa per ogni turista che va che usufruisce delle strutture delle loro strutture di questa struttura vicina appunto alla scuola bene Valtour da 3 euro e poi c'è il Genoa Genoa Club che ha dato le magliette BB Bell un'azienda di Torino insomma chi può contribuisce vedi Marco mi ha detto gli ho detto ma come vedi il dopo domani lui mi ha detto una cosa che mi ha fatto molto riflettere mi ha detto vedi Filippo qui vige il dopo di noi cioè dice io ho 62 anni ho sognato lui mi ha detto ho fatto due sogni in uno un bambino mi diceva che sarei vissuto fino a 81 anni in un altro fino a 83 dice quindi non mi manca molto ecco tutto il tempo che mi resta voglio far sì che questa struttura possa resistere nel tempo e dare un futuro ai bambini come? istruendoli perché alcuni potranno andare a lavorare alcuni se vorranno potranno vivere vivere appunto in queste e dietro dietro una cosa bellissima ve la racconto ve la svelo gli ho detto ma cosa c'è dietro pensa c'è una coltivazione un ettero coltivato a pomodorini cosa San Marzano e Pacchino perché dice il pomodoro oggi non si può importare allora noi abbiamo portato e l'ho visto proprio i semi di Pacchino e San Marzano e li facciamo lì questo è Filippo Poletti Filippo io ti ringrazio tantissimo per essere qui con noi questa mattina come sempre grazie stavolta lo dico io a te buon lavoro buon lavoro allora tutti lunedì come sempre tre belle notizie e visto che abbiamo parlato di Zanzibar Hakuna Matata che vuol dire insomma stai sereno senza pensieri senza pensieri senza pensieri grazie mille Filippo grazie mille a presto a voi un abbraccio forza good morning Valerie Doer Get Closer 8 e 12 minuti questo era il Crystal History di oggi lunedì 9 settembre lunedì della ripartenza siamo pronti a ripartire e qui di fianco a me c'è il nostro feticcio della ripartenza tutte le prime puntate e le ultime puntate c'è lui Lorenzo Masieri buongiorno buongiorno a tutti se mi si chiama rispondo bello e poi immagino che è la mentela che fanno su di me che quando mi chiamano non rispondo mai al telefono è la mentela che faccio anche io su di te comunque immagino che dopo un'ora con Filippo Poletti tu mi avevi chiamato per parlare per fare un focus sulle piccole e medie imprese italiane sulle politiche di per niente mi chiederai dove sono andato in vacanza l'ho chiesto a Capoletti dove sono andato in vacanza questo è da Zanzibar tu dove sei stato? no ho fatto un giro itinerante in tenda Costa Brava e Costa Azzurra hai capito con la pandina ti sei dato allo zingaraggio quello sempre è stato molto divertente molto bello ricordo mai lontano e niente vabbè però è andata ma sicuramente avrai seguito le vicissitudini che sono avvenute nella nostra città questa estate no scherzo scherzo come ho detto l'ultima volta che ci siamo visti a luglio fine giugno 28 giugno fine giugno purtroppo nell'ultimo periodo sto seguendo sempre di meno però con tristezza ah cioè ti manca vorrei esatto vorrei ma non posto no poi qualcosa succede sono stato più attratto dalle come sempre dalle questioni nazionali e quali sono quelle che ti hanno più preso il cuore in questi giorni in questi giorni secondo te scusa ma bene raccontacela bene la questione boccia di San Giuliano la questione beauty beh San Giuliano bravo cantavano in Negramaro poi è diventato ministro questa immagino che si è preparata tipo tre giorni no giuro è venuta in mente adesso facciamo così sai che il post fai lo spiegone no ok facci lo spieghino della questione San Giuliano cosa è successo ma l'abbiamo sentita in tutte le salse la volevo sentire dalla tua biva voce a me sai cosa incuriosisce più di quello che è successo che vabbè sappiamo quello che succederà perché secondo me è destinata sono stati due settimane fisse in cui abbiamo parlato di ciò sì secondo me in un attimo svanisce tra quattro cosa sta succedendo ci si guarda intorno guardiamo le luci c'è una luce da sistemare una luce da sistemare perfetto ma lo sapevamo anche anche settimana scorsa che sono passato sapevamo che c'era una luce mi ha sistemata male vabbè fatto sta che io penso che tra cinque giorni non se ne parlerà più finirà tutto in cavalleria e via non lo so dici così passa così veloce ma passa tutto ma quella domanda che mi sono fatta io però la vicenda Gianbruno abbiamo parlato della vicenda Gianbruno una settimana e poi è finita dopo dopo il posto però mi chiedo appunto dopo cioè nell'era post bunga bunga com'è possibile che avvengano ancora cose del genere tanto che come sai sicuramente come tutti sapete la Pascale cosa ha fatto ex storica di Berlusconi ha messo una sua foto oppure no ha messo una foto di Berlusconi in foto di Berlusconi pensieroso guarda verso il basso adesso non ricordo se era una foto di Berlusconi vero o di Tony Servillo che loro fa Berlusconi con scritto dilettanti però è tutto bellissimo però è sempre tutto bellissimo quanto ti piacerebbe essere lì a sentire in prima queste notizie questi avvenimenti sì ma cioè nella mente sai che quel post lì genererà un sacco di vabbè ma fai niente ma che se tanto fra un mese cosa succede un mese un'altra roba che la fantasia non riesce neanche più a immaginare cosa potrebbe succedere d'altro cioè non eh cosa succede boh non lo so ma chi mai si sarebbe aspettato che un ministro che venisse a fare una roba però vabbè ragazzi e quindi queste sono così vecchie come il mondo tanto che ci sono scritte anche tanti libri o anche delle canzoni tipo Mualolità ad esempio Alizé con Mualolità tu sei la Mualolità Lorenzo non sei la Mualolità non ho un biscottato ah vabbè c'era un posto vuoto c'era un posto vuoto se volevi potevi occuparlo così comunque Lorenzo Basieri qui con noi nella prima puntata della stagione di Good Morning Milano 8 e 20 minuti 3 3 1 7 8 5 3 5 5 5 grazie a tutti per i whatsapp che ci state inviando e grazie di farci compagnia come sempre tutte le mattine è il 9 settembre 9 settembre seduto in quel caffè io non pensavo a te no era 29 mancano ancora 20 giorni ma tranquilli che se il 29 cade tra lunedì e venerdì non ho idea che giorno sia sicuramente la mettiamo e verrò qua a proposito segnati già ci rivediamo il 29 giugno 29 giugno ok ci rivediamo lì va bene se sono ancora in questa dimensione anche perché non è detto che tornando a casa tu possa tornare a casa a stare salvo e non possa finire magari allagato da qualche parte perché hai visto che disastri Milano però posso dire che fino a che ora ha piovuto stanotte no stamattina è piovuto mattina alle 6 piove mi sono svegliato alle 7 e 10 ok 7 e 10 già non pioveva però ho detto mamma mia chissà cosa c'è in giro invece posso dire che anzi ho fatto un viaggio con sai che ti racconto sempre dei viaggi sulla circonvallazione eccetera eccetera ma c'era un arcobaleno ragazzi arcobaleno in circonvalla arcobaleno in circonvalla che potrebbe essere tranquillamente la prossima canzone di Vasco no di Vasco no di chi io facciamo di Tananai ma sì sì di uno degli artisti milanesi dei Baustel no è troppo pragmatico ah sì è troppo è troppo concreto per i Baustel ah ok vabbè lunga vita i Baustel grande vive i Baustel e insomma hai visto che appunto Ponte Lambro ieri sono esplosi tutti i tombini protezione civile ah mi sono iscritto ve lo dite questa cosa a un servizio pazzesco bellissimo della protezione civile che tu scrivi l'indirizzo di casa tua tra presi puoi mettere fino a 5 gli indirizzi quindi io ho millantato di abitare in via Feltre e in via Le Marche perché così ho zona Seveso e Lambro sott'occhio ma ho messo anche via Novara qua quindi ci siamo e se c'è un'allerta ti chiamano e c'è il disco che ti dà l'allerta quindi ieri mi ha chiamato a un certo punto due volte la protezione civile allerta meteo per il Seveso in questo istante il Seveso ha superato il limite di guardia sala operativa la chiami a 025885 così molto comodo ci si iscrive tramite cercate su Google protezione civile Milano allerta tipo una cosa del genere e trovate un form da compilare vi arriva una telefonata vi arriva una telefonata non arriva il messaggio insomma se non rispondi in quell'istante non so cosa succede nel senso ti perdi l'allarme credo arrivi anche la mail però non ho guardato perché non guardo le mail però è interessante è comodo devo dire assolutamente poi ovvio se io non mettevo Feltre o quelle altre vie non sapevo niente e vivo tranquillo qua dalla zona ovest di Vienovara ci scrivono istruzioni poco chiare ho appena comprato una casa in via Feltra ecco no quello era immobiliare.it avete sbagliato il sito non è quello no è quello ma anche sul comune di Milano anche sul sito del comune lo trovate poi c'è un form da compilare poi vi arriva una telefonata per fare il check del numero nel senso e io l'ho fatto tipo alle due di notte una cosa del genere chissà se funziona però è un disco quindi funzionava la protezione civile ha pensato questo è un pazzo ma la gente queste cose le fa di notte scusa non sa cosa fare che è che non si trova se si trova la protezione civile alle due di notte e scrivesse il newsletter stavo preparando la nuova stagione di Good Morning Milano che sai che puoi seguire anche su goodmorning.milano.it è certo è certo sapete che tutti gli spezzoni potreste ritrovarli potrete tutti gli spezzoni tutta la trasmissione spezzettata va bene sulla pagina instagram di Good Morning Milano ah no quelle non tutti per cui ho detto Proterese perché non tutti Gali con Paprika qui su Cristal Radio Good Morning Milano sempre con Lorenzo Masieri per ripartire per ricominciare dopo un'estate senza di voi mi siete mancati tantissimo speriamo di fare cosa gradita nel svegliarvi in queste mattine poco fa abbiamo sentito Lucio Battisti oggi ricorre il giorno della scomparsa di Lucio Battisti che ci lasciava nel 1998 ma è passato veramente una vita in realtà poi lo dico sempre in realtà ci aveva lasciato tanti anni prima lui aveva smesso praticamente a metà degli anni 80 primissimi anni 80 di fare qualsiasi vita pubblica sia di pubblicare niente ma si era ritirato chissà non si è mai capito bene perché non si è mai capito per come forse la grande delusione della fine del suo sudalizio con Mogol non lo so però io quando ti sei andato non è che ho smesso di fare cioè nel senso ero più libero non è che t'han detto era meglio prima perché sai che c'è con la questione di Battisti c'è sempre quelli pro Mogol giusto contro Mogol dopo Mogol è musicalmente e sperimentalmente parlando qualcosa di pazzesco e bellissimo però il primo Mogol è poesia pura cioè il primo Mogol il durante Mogol ma questa è una roba che divide è sentita è divisiva questa è una di quelle cose veramente divisive ok anche quando Mogol fu presidente della CIA diviso un po' mi ricordo io non entro diviso un po' nelle robe serie io ho deciso di non entrare il 9 settembre alle 8 e 30 io continuo a ripetare che sono le 8 e 34 sì io questi orari li faccio solamente quando vengo qua da te e quando andavo a scuola ah giusto è vero però stavo pensando che è 8 e 34 è un orario presto per te ma c'è gente che ce lo scrive via Whatsapp a quest'ora in realtà è già nel traffico sta già viaggiando da ore sta già andando quindi non è che sei tu che sono io che hai un fuso orario sono io che sei sull'orario di Greenwich sono io che sono sbagliato tu sei dietro di un uomo diciamo che su New York diciamo un orario buono per vivere qui è quello di New York più o meno non esageriamo però sì eh vabbè questa è un'altra cosa che divide le persone è divisiva chi vive di notte la gente è la notte la gente è la notte fa lavori strani certi nascono oggi e finiscono domani baristi spacciatori puttane giornalai poliziotti travestiti gente in cerca di guai perfetto la so tutta se vuoi e chi vive di giorno giusto ecco anche ci abbiamo buongiorno al latte dal caffè buongiorno a chi ce n'è non è così comunque questa è un'altra roba che divide le persone giusto quante cose poi andiamo avanti sì Berlusconi divisivo divisivo anche lui oh alla fine sto malpensa eh si è fatto eh ma no non c'è scritto nessuna parte però c'è lei che quando arrivi c'è scritto l'aeroporto signor Berlusconi è che da un giorno all'altro quanti sono passati due mesi tre mesi ho capito è come cambiare il nome sul citofono chiami l'amministratore lo cambi sì ho capito sul citofono metti l'etichetta gialla compri una di quelle tue robe a 10,99 perché tu etichetti tutto cioè non è la roba che etichetta le cose ti dico un segreto allora per rifare lo studio abbiamo dovuto smontare tutta la regia ho etichettato tutti i cavi ecco ma lo sapevo perché è una di quelle robe che poi ti dà soddisfazione tantissimo con i lughini anche bellissimo ma anche vabbè comunque fatto sta e che quindi però Malpensa non gli hanno messo l'etichetta sopra eh no l'etichetta la scritta Milano Malpensa sarà ho capito ti colleghi su quei siti ma poi posso dire meglio eh ma infatti non vorrei che lì hanno fatto tutto e poi alla fine zitti zitti nessuno ha coraggio di andare a attaccare l'etichetta lo stesso per Silvio Berlusconi aveva detto che non gli erano piaciute le modalità con le quali era stata fatta questa cosa però bene dai allora c'è ancora speranza peyote peyote articolo 31 Rocco Ant e Fabio Fibra sei un peyote sembra come un insulto no perché io quando penso al peyote pensi solo a un film è bravissimo è proprio una roba d'annostatici degli anni 90 di chi li ha vissuti e di chi purtroppo non li ha vissuti stiamo parlando del Re Leone no di che film stiamo parlando di Marrakesh di Puerto Escondido di Puerto Escondido scusami di Puerto Escondido con Bentivoglio che Bentivoglio Bentivoglio che viene che è sull'autobus in cui sta viaggiando Bisi per Puerto Escondido esatto sì il viaggio alla ricerca del peyote sì sì fantastico vabbè ma scusami quando in Marrakesh Express quando si perdono nel deserto anche lì immaginano qualcosa però vabbè sai che mi stai dando non so vi invito a recuperare tutta la tecnologia posso dire la verità me li confondo con i due film eh beh beh sì ci sta nel senso che Mediterraneo non te lo confondi perché Mediterraneo ormai è iconico vabbè anche la location è completamente lì ci sono alcune scene che potrebbero un pochino confondi sì effettivamente mi stai facendo venire il dubbio vabbè dopo lo controlliamo lo vediamo anzi 3 3 1 7 8 3 3 1 7 8 5 3 5 5 5 dunque la scena del peyote puerto scondito marrakesh express la scena del peyote con ventivoglio sull'autobus è puerto scondito sicuramente però ricordo che mangiano anche qualcosa di strano che li fa crollare per terra e poi arrivare dove devono arrivare in marrakesh express capiremo capiremo adesso alle 9 e 10 quando chiudiamo tutto ci mettiamo qua col proiettore tanto abbondiamo di proiettori si si ne abbiamo quanti ne vuole di proiettori ci mettiamo in contemporanea di proiettori scondito la scena che mi condivano io è quella di proiettori scondito comunque anche c'è la strada lunga loro che camminano a un certo punto lungo la strada lunga e diritta correva la strada non era la ferrovia no la strada quella è un'altra era la locomotiva era un'altra comunque allora avete capito che insomma questa puntata non è che ha proprio un senso in questa seconda ora andiamo così un po' a braccio un po' per farvi anche riabituare alla sveglia mattutina nessuna rassegna stampa ma in realtà ce l'avevo qua davanti però è più bello gazzeggiare ma anche perché in realtà sono tutte brutte notizie di acqua e pioggia che riempie qualsiasi cosa soprattutto ma ti dico questa uscita di Granelli l'hai sentita? no che ovviamente Radio Carlo Monguzzi ha subito rilanciato Granelli ha detto che forse il sunto qual era? beh belle le vasche ma non bastano bisogna ridurre l'asfalto e il cemento però è giusto però ce ne è voluto prima che arrivassero a capire che era questo il problema e Monguzzi cosa ha scritto? aspetta rifacciamo i gingos scusa infatti Radio Carlo Monguzzi hanno detto ha detto era ora più o meno tutto sto bordello sì sì ha detto così sai che poi lui ammetti con certe cose non è che proprio va fuori se la vuoi capire bene se no fatti i tuoi cioè il concetto è un po' quello anche del caro Carlo è un Ungaretti della politica locale milanese urca penso che gli possa piacere come guarda sto andando a ripescarlo per vedere cosa ha messo e non ce l'ho no sì seveso e l'ambro non solo vasche anti-esodanzione per contenere i fiumi l'assessore Granelli dice serve subito un piano di depavimentazione lui dice oggi la giunta dice che non basta la vasca del seveso ma che serve un piano di depavimentazione punti di domanda una riga di punti di domanda c'è già da anni c'è scritto chiaro e dettagliato nel piano di governo del territorio del 2019 ci sono anche finanziamenti ma nessuno fa niente e quindi questa è stata l'uscita di Carlo Monguzzi che dice per fortuna ora ci sarà il super esperto che sostituirà la grandi nell'applicazione il piano aria-clima povera Milano così dice ah perché è continuata lo sconto continua lo sconto all'interno della maggioranza tra consiglieri di Europa Verde e l'assessore verde ecco questo era un tema che mi aveva fatto impazzire i tempi e che prometto qua adesso 8.44 li tornerò a seguire con particolare attenzione così poi ti chiamiamo quando c'è Radio Carlo Monguzzi che fa un comunicato e allora seguite seguite la palla rotante le luci stobroscopiche che avete davanti a voi per iniziare la mattina con un po' di disco music questa era Donna Summer con I Feel Love anche tu senti questo amore che arriva senti il sottotito da sotto io immagino il guidatore milanese in famagosta che sente sta roba qua va a parte è un po' come il peyote di Porto Scondido eh sì però non va a finire a lavoro non va a finire tira dritto tira dritto e va sull'autostrada del sole chissà dove con un'immagine molto cinematografica da dietro con la Cadillac che è però non è una Cadillac no era appunto del 95 verso la Serravalle sulla Milano Genova così uscita a Binasco con intorno tutte le industrie sì così bene però insomma noi vi diamo gli strumenti poi voi sta a voi costruirvi il vostro film ogni giorno e ogni mattina arrivano i Whatsapp questa è la mia ex questa è questa volta vuoi costruirvi il film vabbè sembra una cosa carina abbia uscito male non so quasi una frase da canzone dei pinguini tattici nucleari poteva essere cosa c'è cosa c'è anche io andiamo al disco no no posso dire una cosa dai devo dire una cosa per la prima volta al Gerundium Fest che è finito ieri che è una che è il più grande festival della birra secondo me in Lombardia a Casirate Dadda stupendo andateci l'anno prossimo tornerà per la prima volta in regia fanno sì con la testa pensa sì c'è Ginevra che dice Ginevra la conosce Ginevra la conosce il Gerundium Fest è tanta roba cosa succede che tutti gli anni dura circa un mese c'è la cover band di Vasco che ci va quattro volte c'è la cover band di Max Pezzali di 883 che ci va cinque volte Liga Bue quest'anno nel programma leggo Tribute Band Pinguini tattici nucleari ma come i Pia Tribute Band ai Pinguini tattici nucleari no dai te lo giuro erano loro sotto mentite spoglie dai è quello lì che fa le robe su TikTok che assomiglia al cantante sai che l'hanno fatta in questa cosa sai che c'è c'è uno allora Ginevra tu so che aiutami in questa cosa sai che c'è il cantante dei Pinguini tattici nucleari che assomiglia a uno che fa delle cose su Instagram al concerto di Bergamo ha aperto lui facendo finta di essere il cantante vabbè non sai niente non sono informato però non so come si chiama come sempre poche notizie date vale noi sempre devo dire che vi chiediamo scusa la prima puntata è così la seconda sarà così uguale la prima settimana sicuro poi magari miglioriamo nell'arco del primo mese poi in realtà dopo siamo stanchi finiamo male comunque c'è forse per Natale qualcosa di buono viene fuori dai comunque questa è una roba sociologica importante che le Tribute Band adesso facciano appunto il tributo a band che fa che differenza c'è tra Tribute Band e Cover Band ma sicuramente un purista ti dirà di sì io ti dico no la Tribute si vestono magari anche come loro la Cover invece vabbè non c'è una Tribute Band di Vasco dove non c'è uno che fa esatto col cappellino la basetta è chiaro cioè se mi taglio la barba e metto un cappellino posso andare anch'io sì così la questione è la Tribute Band dei pinguitati nucleari cosa ha cappellini ricci ricci e dicono poto ogni tanto e tanti troppi riferimenti agli anni 90 che poi soprattutto loro non sono così di che anno sono più o meno di quella roba lì ma no sono nati negli anni 90 no secondo me non sono nati negli anni 80 secondo me sono nati negli anni 90 non lo so c'è un riferimenti miei nato negli anni 80 che negli anni 90 giocavo a Subutio ma anche io ho giocato a Subutio pur essendo nato nel 99 eh no sono nato nel 99 eh volevi eh volevi giocare a Subutio negli anni 90 non potevi eh sì mi sarebbe piaciuto perché perché poi è arrivato il FIFA è arrivato il FIFA e basta troppo nostalgico però è finito il Subutio non c'è più neanche il FIFA adesso come no non si chiama più FIFA ma si chiama FC adesso il gioco ma come la Fiat no no davvero non si chiama più FIFA EA Sports EA Sports è la casa ok EA Sports è la game che poi iniziava con la canzone di Blur quella del 98 si dipende da ok adesso non c'è più non si chiama più FIFA si chiama FC non lo sapevo perché non hanno avuto siamo sicuri di questa cosa quasi sicurissimo ok quasi sicurissimo sì 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 beh nell'ultimo periodo il FIFA tipo non aveva la Juve perché i diritti andavano tipo a PES e si chiamava Piemonte FC quest'anno da quanto ho capito non ho dato neanche la licenza per i colori delle maglie su alcune non lo so mi informerò ti dico la verità anche perché se non sbaglio a settembre esce di solito sì 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 veramente secondo me anche a un certo punto è scandaloso è troppo così è veramente troppo nel senso che non puoi giocare con un gioco dove non c'è neanche la possibilità che poi vabbè volendo ti metti gli it ti devi fai tutto è sempre peggio però c'è nel senso no però si punta tanto su alto si punta sull'online eh sì sì adesso ci sono le medaglie le carte è tanto sì l'ultime team è tanto che non gioco l'ultime team sono rimasto veramente tanto indietro e allora sblocco un ricordo invece a chi magari negli anni 90 giocava invece a PC Calcio tu non sai neanche cos'è questo PC Calcio c'è anche Football Manager dopo è arrivato ecco però il primissimo in realtà è stato PC Calcio nasceva in Spagna si chiamava PC Football si chiamava poi è arrivata la versione anche italiana tu facevi il manager della squadra di calcio e tutti quelli che hanno giocato in quegli anni giocavano quasi tutti con il Baracca Lugo c'era questa famosa è una squadra emiliana che esiste ancora c'è stato lo stadio del Baracca Lugo solo per farmi la foto davanti perché era così simpatico come nome ed era particolare vederla tra l'Arsenal il Manchester il Milan l'Inter c'era anche il Baracca Lugo e sai adesso invece di cosa parte? e come passa il tempo quando ci si diverte mi piacerebbe dire lo stesso sei proprio un ingrato ingrato 8 e 56 minuti che vorrete la fine di questa puntata di oggi lunedì 9 settembre sempre qui anche domani mattina dalle 7 alle 9 Lorenzo grazie mille di aver stato con noi grazie a te Fabio come sempre per avermi invitato e vi ricordo che appunto tutti i giorni dalle 7 alle 9 qui su Cristal Radio ma ci sono i più disparati le più disparate maniere per ascoltarci ovunque tramite app tramite sito tramite Spotify poi con il podcast Apple Music ovunque c'è anche TikTok da quest'anno Tinder? no però volendo possiamo farlo l'abbiamo trovato invece Bumble questa è una battuta che dalla seconda puntata non si può più fare oggi va bene perché va bene oggi ok domani non si può più dire tutto va bene le voci che avete sentito questa mattina sono quelle di Fabio Ranfi con il microfono Lorenzo Masiai con me prima Filippo Poletti grazie mille a Beatrice Ginevra in regia domani torniamo sempre qui dalle 7 alle 9 come sempre per raccontarvi tutto quello che succede a Milano e in città metropolitana quello che abbiamo fatto oggi no? più o meno più o meno più o meno a domani ciao grazie Lorenzo grazie Fabio grazie a tutti